Ed ieri la notizia dell'accordo fra governo e regioni per la scelta autonoma sulle riaperture degli enti regionali. A tal proposito si pensa ad una riapertura al 18 maggio delle attività che finora sono restate chiuse al pubblico come parrucchieri, centri estetici, negozi al dettaglio, ristoranti e bar. Sulla questione sono intervenuti in diretta su Cilento Channel tre professionisti agropolesi del settore estetico, dell'air stylist, Michela Magno, Angelo Zaccaria e Gianfranco Di Paola. Il 18 maggio si dovrebbe riaprire anche se non c'è niente di concreto come non c'è stato nulla di concreto in questo periodo per la nostra categoria, dichiara Angelo Zaccaria riguardo la riapertura. Noi siamo già pronti ma c'è stata tantissima confusione e le persone si vogliono già prenotare. È inutile prendere prenotazioni senza conferma ufficiale. Le norme per quello che si sente in giro sono un poco assurde. A mio avviso quello che già facciamo come parrucchieri è orientato per la sicurezza del cliente, resta grave non sapere ancora con certezza se si riapre. Si è parlato anche dell'abusivismo in questo settore. Gianfranco Di Paola è stato critico soprattutto nel farlo nonostante questa situazione. È da decenni che continua così ed è un fenomeno difficile da risolvere. In questo periodo è molto più grave farlo per via del virus, ma si è dato agio a queste persone di lavorare. Noi ci mettiamo impegno ogni giorno nella nostra professione. I clienti diventano anche amici e dire no alla cortesia di andare a casa è difficile, ma è giusto che sia così per non creare un disagio. L'estetista Michela Magno infine richiede più riconoscimento per il loro importante comparto professionale. Non vedo spiragli perché ci sono contraddizioni fra governo e regioni. Noi chiediamo il riconoscimento delle nostre categorie perché rappresentiamo una buona fetta del PIL. Siamo importanti. Investiamo tanti soldi nella formazione. Abbiamo studiato. Chiediamo di poter riaprire in sicurezza e avere reali aiuti economici.